E niente, il nonno questa domenica non è riuscito ad uscire di casa, è rimasto bloccato, perché stamattina proprio mentre stava scendendo c'era una macchina che bloccava la sua macchina, era una macchina cinese con una panarinda che abbagliava, si chiamava l'indio, e tu non mi ha nascionato, ha chiamato il suo nipote o Stavallone o Polac, quello che negli ultimi tempi risolve il problema, e tu non puoi, nonno, che sei una macchina in un puttiere di Castellammare che è venuto a parlare tutto, un becco puttiere, perché negli ultimi tempi si stava cagando e la valsa non si sta capendo, niente, ha chiamato una botta rinda, ha chiamato una botta rinda, però non è successo niente, il puttiere di Castellammare non ha avuto una minima sensibilità, ne ha fatto male, il signor Luca mi coppio guardava, mentre si aveva lasciato e si mangiava le patatine, o non ne ha fatto stare, che malamente non sta, voglio, ma manco il puto, e per i mai signori che fa.